Preside Benedetta Rostan, è da poco cominciato l'anno scolastico, quest'anno senza l'incubo della pandemia, come stanno andando le cose? Sì, finalmente l'anno scolastico è iniziato secondo la tradizione, nella piena libertà, i ragazzi hanno iniziato le attività didattiche il 12 di settembre. L'anno scolastico è iniziato da qualche settimana, ma sono già tante le iniziative messe in campo dalla scuola, a cominciare dalla Notte della Moda, in programma il prossimo 7 ottobre, pensata anche come occasione di orientamento, il momento di condivisione tra i vari indirizzi dell'istituto. Da quest'anno cominceremo immediatamente con il 7 di ottobre, con la Notte della Moda. È una serata durante la quale presenteremo tutti i lavori, pregressi e nuovi dell'indirizzo di moda, ma diventerà anche un'occasione di orientamento, perché a questa serata parteciperanno anche gli altri indirizzi della nostra scuola, cioè le scienze umane, il turistico e il liceo artistico. Abbiamo anche altri programmi e sicuramente verranno attivati tutti i progetti inerenti al piano triennale dell'offerta formativa e auspichiamo di aprire il nostro museo un sabato del mese fino al mese di maggio. Tante dunque iniziative in cantiere per questa scuola, ma qual è stato il suo messaggio agli studenti per l'inizio del nuovo anno? Allora, il mio messaggio agli studenti è stato quello di iniziare con serenità, iniziare riuscendo a guardarsi nuovamente negli occhi senza mascherine, che permettono di osservare il viso delle persone e quindi di comunicare attraverso il messaggio verbale, ma anche quello non verbale. La mascherina ci ha un po' impedito di comunicare realmente le nostre sensazioni, sembrava quasi che fossimo tutti uguali. Adesso finalmente ognuno di noi si manifesta nella sua tipicità. Tra le novità che riguarderanno il degno è anche l'assegnazione di fondi del PNRR da utilizzare per far fronte alla dispersione scolastica. Allora, in realtà i fondi servono per affrontare il problema della dispersione. Pertanto noi come scuola, prevalentemente indirizzo femminile, abbiamo come obiettivo quello di recuperare tutte le ragazze che in questi anni hanno deciso magari di lasciare la scuola in un secondo momento di riprendere gli studi e in secondo luogo di realizzare dei percorsi di formazione, di accoglienza, di sostegno e di potenziamento. Ovviamente tutti questi percorsi prevedono un'interazione, una sinergia con il territorio, con l'associazionismo, con le amministrazioni e quindi il quadrilatero educativo verrà messo in azione con tutti i suoi aspetti più positivi e opportuni per i nostri giovani e la nostra città.